Serie di furti in centri commerciali trovati con 10.000 euro di merce rubata, quattro uomini arrestati dai carabinieri che lanciano un appello ai negozi che hanno subito furti. È accaduto a Sansepolcro, in via di ricostruzione da parte dei militari dell'arma, il percorso che hanno seguito e quindi i centri commerciali derubati, così come non si può escludere, si legge nella nota dei carabinieri, che possa trattarsi degli stessi che negli ultimi giorni hanno messo a segno numerosi furti nelle case della zona. La videosorveglianza urbana con rilevamento delle targhe si è rivelata ancora una volta fondamentale, come anche la prontezza di intervento dei carabinieri che ha consentito di individuare l'automobile sospetta, ricercandola per diverse ore fino a quando non è stata trovata parcheggiata davanti ad un noto centro commerciale di Sansepolcro. All'interno c'erano solo due uomini fermi ed evidentemente in attesa. Altri due sono usciti dal centro commerciale con un grosso zaino in spalla e una volta giunti all'auto lo hanno svuotato nel bagagliaio, che era visibilmente ricolmo di moltissimi altri prodotti per la Cosmesi. Da lì è scattata l'operazione di controllo dei quattro che hanno tentato di fuggire. Dalla successiva perquisizione personale e veicolare, i quattro sono stati trovati in possesso di numerosi prodotti quali creme per la pelle, soprattutto antirughe, profumi deodoranti e shampoo, tutti di notissime marche per le quali non avevano alcun titolo di acquisto né valida giustificazione per un valore come detto di oltre 10.000 euro. Tutta l'area furtiva è stata sequestrata in attesa di ricostruirne la provenienza. I carabinieri hanno lanciato un appello agli esercizi commerciali che hanno subito un furto a mettersi subito in contatto con loro.